Al via il distretto biologico delle Verdi Valli Teatine, unita al riniziato nel marzo 2022 con interlocuzioni con la Regione Abruzzo circa la legge di riferimento ai distretti del cibo, con la creazione di un soggetto giuridico che comprende le vallate della Lento e del Foro sui territori della provincia di Chieti, che ingloba enti e aziende con operatori già attivi o per chi vorrebbe riconvertire la propria azienda a biologico ed unirsi alle 40 cantine sociali e alle 13 private. Il distretto del cibo è una condizione di opportunità che mette a disposizione delle aziende e dei territori strumenti che attraverso la partecipazione unitaria e bandi europei, in linea con le nuove direttive, hanno la finalità di valorizzare le eccellenze agricole, i lavoratori e le storie, oltre che alla promozione attraverso il cibo e il vino, in questo caso l'intera area che comprende 19 comuni. Oggi con questo strumento abbiamo l'opportunità di intercettare diversi disegni, progetti, che possono portare nei nostri territori e in un'area abbastanza ampia quelle potenzialità per arricchire sia il turismo, sia l'agricoltura, sia l'artigianato, sia le aziende stesse che oggigiorno soffrono. La costruzione dei distretti del cibo con le varie articolazioni e oggi la presentazione di questo distretto biologico ne è la testimonianza. È l'opportunità che a un territorio importante della nostra regione possano raccontare tramite la qualità dei nostri prodotti, storia, cultura, identità e tradizione della nostra terra.